Una Writer's Room è una stanza dedicata alla scrittura dove sentirsi circondati da storie, idee e altre menti creative. Writer's Room è anche il titolo del nuovo corso della scuola Holden dedicato alla scrittura di sceneggiature. Vi affiancherò durante cinque settimane cinque appuntamenti online durante i quali potrete scrivere la logline, la sinossi, il trattamento e la scletta della vostra idea personale. Una volta definiti i punti chiave delle vostre storie ci troveremo qui alla scuola Holden per passare tre giorni intensivi di scrittura, un weekend durante il quale sviluppare le scene, i dialoghi e le azioni delle vostre sceneggiature. Se avete un'idea o un'intenzione che vorreste seguire non esitate ad entrare all'interno di Writer's Room perché come diceva Alfred Hitchcock per fare un buon film bastano tre elementi la sceneggiatura, la sceneggiatura e la sceneggiatura. Io sono Alessandro Di Paoli e vi aspetto al nuovo corso della scuola Holden Writer's Room scrivere una sceneggiatura. Grazie a tutti. Grazie a tutti.